Musica Tragedia oggi sui monti della Val Tartano a perdere la vita un turista della provincia di Bergamo in pentola un'escursione, fatale la caduta e un dirupo. Dopo il pauroso incidente di Ogni Santi a Vila di Tirano torna in primo piano la sicurezza dei passaggi a livello. Codistaziona non verrà eliminato ma il sindaco propone un suo allargamento. La ospitata Palazzo Pretorio di Sondrio è la prima assoluta per l'Italia della mostra che accoglie gli acquerelli di 5 artisti cileni nelle opere esposte le suggestioni e i cambiamenti dei ghiacciai del Sud America. Buonasera, buonasera a tutti. Apriamo il nostro Tg con la tragedia accaduta oggi sui monti della Val Tartano a perdere la vita un turista della provincia di Bergamo impegnato in un'escursione. L'allarme lanciato dall'amico che era con lui. Vediamo. Una giornata da trascorrere in montagna a contatto con la natura, un'escursione che purtroppo si è trasformata in tragedia. Tutto è accaduto poco prima di mezzogiorno sui monti della Val Tartano che in questi giorni d'autunno sono un'esplosione di colori. Tanti sentieri che si possono percorrere. Quello in cui è avvenuto il tragico incidente è sul monte Seleron, una montagna imponente che si trova sulla cresta che separa la Val Madre dalla Vallunga. A perdere la vita un escursionista di 67 anni residente in provincia di Bergamo. Per cause ancora da chiarire, l'uomo è precipitato per un centinaio di metri in un dirupo. L'amico, salito con lui in Valtellina, ha subito lanciato l'allarme, componendo il numero d'emergenza 112. Impegnati nelle operazioni i tecnici del soccorso alpino della settima delegazione, i militari del SAGF della Guardia di Finanza, l'elisoccorso di Areu decollato dalla base di Caiolo. L'intervento si è svolto in una zona impervia. La sagoma dello sfortunato escursionista è stata individuata. Purtroppo per lui non c'era più nulla da fare. Il medico ha constatato il decesso. La salma è stata recuperata con l'ambulanza e trasportata a valle per essere ricomposta nella camera mortuaria. Sull'accaduto sono in corso le indagini condotte sotto il coordinamento della procura di Sondrio, dalle fiamme gialle del SAGF in collaborazione con i carabinieri della stazione di Ardenno. Passiamo alla politica. La vicepresidente di Regione Lombardia, Letizia Moratti, si è dimessa dalla giunta Fontana. Se siamo usciti dalla pandemia, spiega, è per l'adesione alla campagna vaccinale, risultato del quale i Lombardi devono essere fieri. La scelta apre nuovi scenari politici. Servizio. Terremoto politico in Regione Lombardia. A pochi mesi dalle elezioni, la vicepresidente e assessore al welfare Letizia Moratti ha deciso di dimettersi, riconsegnando le deleghe al presidente Fontana, con il quale, dichiara, è venuto meno il rapporto di fiducia. Una scelta di chiarezza rispetto ai provvedimenti contraddittori assunti in materia della lotta alla pandemia. Registro con preoccupazione, spiega la Moratti, la scelta di anticipare il reintegro dei medici e degli altri professionisti della sanità non vaccinati, il condono sulle multe ai neovax e la diversa sensibilità sull'importanza dei vaccini. Credo, infatti, che se oggi il paese è in sicurezza per quanto riguarda il Covid, lo dobbiamo senza alcun dubbio all'adesione massiccia alla campagna vaccinale nei mesi scorsi. Un successo in Lombardia, del quale, conclude la Moratti, bisogna andare fieri e che ora viene messo in discussione dai provvedimenti varati dal governo Meloni, sostenuti anche dalla Lega. Nel commentare alla decisione, il governatore Fontana la butta in politica. I dubbi che aveva espresso sul posizionamento politico di Letizia Moratti erano fondati di chiara. È chiaro che guarda verso sinistra e non da oggi. È sorprendente, prosegue il governatore, che l'assessore al welfare dichiari oggi che l'azione della giunta non sia sufficiente, ne fa parte da un anno e mezzo e non mi pare che abbia sollevato mai problemi. Senza dubbio l'uscita della giunta dell'ex sindaco di Milano apre nuovi scenari politici regionali e nazionali. Le sue deleghe ora saranno fidate a Guido Bertolaso. Tra gli ultimi atti della Moratti in veste di assessore al welfare, pochi giorni fa, la visita in provincia di Sondrio, dove, nell'ospedale del capoluogo, ha inaugurato macchinari acquistati anche grazie alla generosità di privati. Il pauroso incidente è accaduto a Ogni Santi a Via di Tirano. Il SUV, travolto dal treno a Stazzona, riporta in primo piano il problema della sicurezza dei passaggi a livello e anche delle possibili migliorie da adottare per ridurre i rischi. Vediamo. I passaggi a livello restano tema caldo a riportarli prepotentemente in primo piano il pauroso incidente accaduto ad Ogni Santi a Stazzona, nel territorio di Villa di Tirano. Il conducente del SUV, un 52enne di Tirano, per fortuna è salvo, non ha riportato gravi traumi. Il veicolo ha cartocciato dopo l'impatto con il treno, avvenuto poco dopo le 11. La macchina di soccorsi si è mossa con grande tempestività, impegnata l'equipe medica di Areu, l'elissoccorso di Sondrio, il vigile fuoco del distaccamento di Tirano, la polizia stradale, i carabinieri della compagnia di Tirano. È ancora da chiarire l'esatta dinamica dei fatti. Secondo una prima ricostruzione, il SUV procedeva da Stazzona in direzione del passaggio a livello, che si trova a una ventina di metri di distanza dall'innesto con la trafficatissima, stata le 38. Il veicolo, come spiegava il sito di Trenorda nei minuti successivi all'incidente, era rimasto bloccato tra le sbarre. Poi l'impatto con il treno è partito pochi minuti prima dalla stazione di Tirano, che ha trascinato per alcuni metri di SUV. Il conducente è stato estratto dalle lamiere contorte, caricato sull'eliambulanza e trasportato fino al Morelli di Sondaro. Per fortuna, come dicevamo, i traumi riportati non sono gravi. Pesanti fino a metà pomeriggio le ripercussioni per la circolazione ferroviaria. Fino alla riapertura del tratto tra esenda Tirano è stato istituito il servizio sostitutivo con bus da Sondrio fino al capolinea tiranese. Mentre proseguono gli accertamenti su quanto è accaduto, il tema della sicurezza dei passaggi a livello torna dunque sotto i riflettori. Quo di stazione non consente errori. Chi malauguratamente resta tra le sbarre ha uno spazio di manovra molto ridotto. Liberare i binari è possibile, le sbarre, se spinte dal veicolo, cadono. Certo, poi bisogna subito segnare l'accaduto e pagare i relativi danni. Il sindaco di Villa di Tirano, Franco Marantelli Colombin, giustamente non entra nel merito di quanto è accaduto il giorno di ogni santi. Ci spiega che quel passaggio a livello non è compreso nell'elenco di quelli da eliminare. Un'idea, aggiunge, potrebbe essere quella di allargarlo spazio presente tra le due sbarre, così da consentire ai mezzi che finiscono tra le barriere di liberare i binari e di evitare così l'impatto con il treno in arrivo. Due novembre, cerimonia questa mattina in questura in occasione della commemorazione dei defunti. Presente il prefetto Roberto Bolognesi, accolto dal questore Angelo Giuseppe Re. Sono stati ricordati i poliziotti che hanno perso la vita in servizio nel riempimento del dovere e tutti coloro che hanno sacrificato la loro esistenza in nome degli ideali di legalità. Nel corso della cerimonia, dopo la deposizione di una corona di alloro da parte di due poliziotti in alto uniforme ai piedi della lapide commemorativa dei defunti della questura, un momento di preghiera e la benedizione impartita dal cappellano della Polizia di Stato, Don Andrea Lotterio. È una prima assoluta per l'Italia la mostra dal titolo Ghiacciai, la visione dell'acqua allestita in questi giorni a Palazzo Pretorio a Sondrio. Cinque acquarellisti cileni hanno rappresentato i giganti di ghiaccio del loro paese oggi in agonia per i cambiamenti climatici. Vediamo. Uno sguardo che coglie l'espressività dell'acqua nei monumenti che sono i ghiacciai oggi in grave pericolo per il cambiamento climatico che non risparmia questi giganti. È ciò che rappresenta la mostra collettiva di cinque artisti sudamericani allestita a Palazzo Pretorio in occasione del Sondrio Festival. Ghiacciai, la visione dell'acqua è il titolo di questa esposizione, una prima assoluta per l'Italia, che presenta le opere di cinque acquarellisti cileni che hanno dato corpo alle visioni sul destino delle riserve d'acqua. L'edizione italiana delle mostra è patrocinata dal Consolato Generale del Cile a Milano. Sono cinque artisti che sono stati riuniti dal Museo Casa dell'Acquarella, una fondazione cilena, che ha avuto anche aiuti dal Ministero degli Esteri e la Direzione di Affari Culturali. E dimostra un po' l'impegno delle artiste verso i ghiacciai che sono così importanti e verso questi importanti e preoccupanti al tempo stesso in quanto anche in Cile si stanno sciogliendo per questo clima che è molto cambiato. Io non ho ancora avuto la fortuna di trovarmi nella zona australe del Cile, dove ci sono i ghiacciai più in vista, più in vista vicino all'Artico. Non sono ancora avuto la fortuna, spero avercela e in quell'epoca fare un altro sviluppo. In questo caso io sono andata in un ghiacciaio che è vicino a casa mia. A un'ora di strada ho preso per la montagna con i muli, i cavalli e un gruppo di montagna e con un'altra delle artiste che siamo entrate varie ore, giorni di marcia, finché siamo arrivati in vista del ghiacciaio La Paloma che è rimpicciolito ma è ancora glorioso, è ancora una zona gloriosa, sono 3.000 metri di altezza e abbiamo dipinto con la mia amica a quell'altezza lì, a quella quota ed è stato veramente meraviglioso. A 3.000 metri stai pensando un po' alla sopravvivenza, non stai pensando tanto a dipingere, ma ce l'abbiamo fatta anche a dipingere e siamo rimaste molto sorelle con la mia amica pittrice perché l'ego va via, si pensa a sopravvivere, manca un po' l'ossigeno, c'è il sole, c'è l'aria, se si affortuna c'è il sole, è una cosa tanto grande che siamo due bambine a dipingere braccio a braccio diciamo ed è stata una cosa molto molto grande. L'esposizione rimarrà allestita fino al 24 novembre. Il tema è l'ambiente e la novità è la sua versione digitale. Al comando Provinciale di Sondrio ho presentato il calendario storico dell'Arma dei Carabinieri con la novità del progetto artistico che ha portato alla sua realizzazione. È dedicato all'ambiente ed è il primo dell'Arma ad evolvere in un progetto artistico integrato con un completo ecosistema digitale che comprende il sito web dedicato www.calendario.carabinieri.it e un'opera d'arte NFT. L'edizione 2023 del calendario storico dell'Arma dei Carabinieri porta la firma dell'Armando Testa Group. La tematica che viene affrontata quest'anno nel calendario del 2023 è quella della natura. Natura che viene considerata un bene preziosissimo perché costituisce la casa in cui l'umanità vive. C'è un cambiamento in corso già da diversi decenni che vede evolvere la visione della natura da semplice contenitore della vita dell'uomo a contesto nel quale invece la vita in generale si svolge e quindi è un contesto che va attentamente tutelato. In questo l'Arma dei Carabinieri attraverso i suoi reparti speciali segnatamente attraverso il proprio comparto forestale, ambientale e agroalimentare lavora alla cremente per la tutela della salute dell'uomo che è comunque un contesto che si articola e si declina in diversi settori. C'è la salute alimentare come abbiamo detto che costituisce quello che mangiamo ma c'è anche la salute ambientale quindi le foreste, il mare, i laghi e sono tutti contesti che naturalmente contribuiscono a creare il contesto nel quale la vita si svolge e non solo la nostra ma anche quella degli animali. I prodotti editoriali non sono soltanto quelli del calendario che abbiamo visto ma anche quello dell'agenda dell'Arma dei Carabinieri e i calendari eti da tavolo e il planning che mostrano tantissime belle immagini che riportano l'attività dell'Arma nella nostra Italia quindi ci sono belle immagini di tantissime città italiane che fanno vedere come tutte le città italiane di tutto lo stivale vedano la presenza dell'Arma e che servono anche a noi carabinieri a ricordarci come sempre noi siamo sempre gli stessi in tutta Italia e lavoriamo solamente in una maniera che è quella che serve a tutelare la sicurezza e la salute della popolazione. E ora andiamo in montagna a Foliage autunnale in Val Malenco e la Gazzuolo è vestito d'oro non perdetevi questa splendida gita che potremo vivere con itinerari in onda questa sera alle 20.20 alle 21.40 ecco una breve anticipazione. La bellezza di questo alpeggio è il lago che ha un colore veramente smeraldino unico circondato da Larici poi in questo periodo avete visto un colore straordinario il lago si trova a 5 minuti dal bivacco un lago naturale sì 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 poi in alto ce n'è un altro che si chiama El Laguche è un po' più piccolo ma ha dei colori stupendi si trova a sinistra del bocchè del cane lì in basso questi laghi ghiacciano d'inverno sì 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 ghiacciano e bellissimi sono di primavera quando c'è il disgelo autunno poi il periodo più bello colori spettacolari dopo queste bellissime immagini vi ricordo l'appuntamento sul web con il nostro sito la web tv la nostra presenza sui principali social vi auguro una buona serata grazie a tutti